Un particolare ringraziamento all'Avis nel suo complesso, all'Avis perché ha avuto questa iniziativa. L'Avis comunale di Crotone di cui lei è presidente e la Polizia di Stato insieme avete concordato questa iniziativa che si chiama settimana della donazione Polizia di Stato. Dal 16 al 21 settembre prossimi i poliziotti, a turno ovviamente perché sennò la Polizia chiude, a turno daranno il sangue all'Avis. Sì, daranno il sangue, poi se vogliono tesserarsi sarà loro volontà. Noi è solo un'opera di sensibilizzazione alla donazione. Ovviamente, come ben diceva lei, normalmente noi facciamo giornate di donazione. Questa volta, proprio per il tipo di lavoro, abbiamo scelto di fare una settimana. È un'idea che portavamo in serbo da parecchio tempo, anche perché sono tanti già i poliziotti che anonimamente donano. Noi lo sapevamo e quindi volevamo dare questa visibilità e far sapere anche alla società crotonese che comunque il poliziotto è presente non solo nelle sue attività, ma è sempre presente nella società con attività meritorie. Questo progetto veramente erano anni che però non riuscivamo ancora a definirlo. Ora abbiamo trovato questa formula della settimana che spero di poter ripetere anche più volte e che diventa una abitudine, un appuntamento annuale, almeno un appuntamento annuale. Dove saranno fatte le trasfusioni? Allora, la raccolta sangue verrà fatta direttamente al centro trasfusionale, proprio perché si tratta di una settimana. Ovviamente tutti si possono ricare dal lunedì al sabato, in piccoli gruppi, dal 16 al 21, e lì potranno quindi effettuare la donazione. Al ricordo di questa esperienza fatta insieme a noi abbiamo creato un piccolo ricordo, un portachiave, dove appunto sono presenti i due simboli proprio a ricordare questa unione e dietro ovviamente abbiamo scritto la data proprio al ricordo dell'evento e speriamo che vada tutto bene. Comunque rimane comunque un'iniziativa di sensibilizzazione. Noi comunque un punto l'abbiamo raggiunto, abbiamo sensibilizzato ancora di più alla donazione. Lei ha rappresentato plasticamente l'iniziativa, ha detto il poliziotto è l'uomo amico e lo vogliamo ribadire partecipando a questo progetto di donatore del sangue. Il poliziotto non è solo il poliziotto che arresta, che controlla, ma è anche l'uomo vicino agli altri uomini. Beh, è quello che ho detto durante la conferenza stampa generale. Noi siamo su un territorio, abbracciamo questo territorio. Chi lo vive è anche il poliziotto, l'uomo donna, e sostanzialmente proprio per la vicinanza al territorio abbiamo abbracciato questa iniziativa che è sicuramente incomiabile. Una settimana a turno ovviamente, altrimenti la polizia si deve fermare per una settimana a turno, i poliziotti e quelli disponibili, i volontari possono andare a tornare? Sì, è un'iniziativa che prevede, appunto, tutti gli uffici sono coinvolti, chi vuole, perché è su base volontaria, in questa settimana ci sarà questa settimana della donazione e io personalmente ho chiesto ai miei collaboratori di aderire in maniera abbastanza massiccia, ma già lo fanno in modo autonomo a prescindere da questa iniziativa, così come ha detto il Presidente dell'Avis, ma in questo caso sarà proprio un'iniziativa che è stata condivisa appieno dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dall'Ucione Reazione Stelle. I donatori si erano già, lo hanno detto anche quelli dell'Avis. Adesso viene proprio organizzato una settimana che sarà riproposta anche nei prossimi anni. Esatto, una settimana monotematica, diciamo. Questo ricordo che ci vede insieme per la prima volta in questa attività.